Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio sempre sulla carriera di WWE 2K19. Vediamo se in questo episodio possiamo portare un nuovo titolo nostro che abbiamo appena fatto fare. Vediamo anche se c'è la possibilità di personalizzarlo perché ancora non si sa niente. A-Raw. Intanto possiamo andare a parlare con in ordine di come sono messi Sasha Banks, Miss Tourage e The Miz. Vediamo Sasha Banks cosa ci dice. Quello che è successo nel tuo match con The Bulldogs e The Miz è inaccettabile. Trova sempre nuovi modi per ricordarmi che la persona è più fastidiosa al mondo. Già senti sono venuto per chiedere detto un favore, ho un'idea geniale per lo show della settimana prossima che ci darà l'occasione ideale per divertirsi a spese della coppietta di celebità. Mi servirà il tuo aiuto, ci sta? Certo che ci sto, in buona parola. Ok. Quindi lei ci sta. Miss Tourage. Quindi avremmo il suo aiuto. Spero che tu sappi che stasera avresti perso anche se The Miz non mi avesse colpito per sbaglio con un pugno in faccia. È stato proprio un incidente sfortunato. Come ci si sente essersi fatti fare il lavaggio del cervello da The Miz? Non ci ha fatto il lavaggio del cervello, l'hanno detto insieme. Pensiamo sempre con la nostra testa. L'hanno detto insieme. Smettile subito. Ok. Vabbè, non vi ha fatto il lavaggio del cervello, sì, come no. Ok, quindi, non lo dovrebbero finito. Vediamo The Miz cosa ci dice. Deve essere tutto pensare che la tua vita stia andando a punfevelle solo per essere superata in astuzia all'ultimo minuto. Non è ancora finita. Triple H ha deciso. Grazie a lui abbiamo perso il match e la possibilità di combattere contro il suo titolo. Ho perso l'opportunità per il tuo titolo, forse, ma solo il primo detentore di un nuovo titolo che presenterò personalmente a voi. Hanno deciso di rintrodurre la categoria Divas? Non esattamente, vedrai. Ok. Ok, quindi possiamo andare a personalizzare il nostro titolo, come potete vedere. Quindi andiamo a creare noi davvero il nostro titolo. Ok, allora, credo che questa parte ve la faccio vedere un po' più veloce. Ci vediamo direttamente appena finirò. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Ci stavamo solo facendo più risate. Non ben dettela così. E poi non sono ancora arrivato alla parte più interessante. Stasera non sono solo qui per mostrare al pubblico quanto sei ridicolo, ma anche per presentare a tutti il mio nuovissimo titolo. Perfetto. Perfetto. Wow, ma dove credete di essere? In WWE 2K19? In WWE 2K19? Questa è la realtà. Noi non stiamo giocando con le bambule. Non puoi creare un titolo dal nulla. E' probabilmente la cosa più patetica che abbia mai visto. E' probabilmente la cosa più patetica che abbia mai visto. Ok. Ovviamente l'avversario è l'effetto per te. Uno che sta ancora aspettando di vendicarsi per una chitarra rotta. Elias. Ok. Quindi avremo... Ma solo a condizioni particolari. Lo difenderemo questo titolo. ha alcune condizioni speciali per come si deve essere difendito. Che era un no disqualification match. Come i matchi che solo possono essere stati in high school gyms? Oppure non può essere più di 200 persone. Oppure nella palestra di un liceo? Non esatto. Il mio titolo sarà solo difendito in un no disqualification match. Beh, credo che questa sia una reazione generica che hanno messo per tutti. Qualsiasi stipulazione noi sceglievamo qualche episodio prima. Quindi, andremo con questo match. Sasha Banks e The Miz accompagnano Mr. Enigma e Elias che si sfideranno appunto in un match senza squalifiche per il titolo che abbiamo appena creato. Titolo che ovviamente devo vedere come poter modificarlo, che ovviamente non possiamo lasciarlo totalmente nero. Vediamo come posso un po' andare a modificarlo. Infatti, come vedete, è totalmente sul nero. E non va bene così. Perché io l'avevo fatto sul bianco di sotto. Non so perché mi abbia cambiato totalmente il colore della cintura. Potrei provare poi a modificare un po' i colori per vedere cosa poter fare. Forse appunto è il colore del metallo che ho scelto sotto. Quindi devo poter vedere se posso provare a cambiare un po' se mettere anche per esempio una plastica sotto. Perché si può mettere. Vediamo cosa posso fare successivamente off screen. Non ve lo faccio vedere perché ovviamente prenderei solo spazio al video che non serve. Ok. Direi che il match può anche iniziare. Ok. Sta presentando lottatori. Questa la vediamo tranquillamente. Allora, qui c'è Elias. Elias che in WWE si vede pochissimo lottare. Solo in questi ultimi periodi si è vista la faida contro Baron Corbin. Ma soprattutto ovviamente lo si vede quando canta, quanto canta e suona. La cintura meriterebbe, cioè la cintura mi piace. L'unica cosa è che deve essere bianca sotto. E non lo è assolutamente. Ok. Iniziamo questo match, dai. Quindi, vediamo qual è il nostro obiettivo. Dobbiamo vincere per uno schienamento o una sottomissione. Vi ricordo che non c'è la squalifica. Quindi possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo. Io per squalifica no, perfetto. Per essere sicuro la controllo. E direi di andare qui. Non dirmi che c'è il conteggio fuori perché davvero... C'è il conteggio fuori, va bene. Allora, se tu esci io entro. No. Ok. Va bene. Vieni, vieni, dai. Dai, vieni, vieni. Ok. Ok. Io questa stipulazione l'ho voluta apposta proprio per andare a utilizzare le armi. Che ovviamente sono quelle che io utilizzo molto. E... Mi... Mi... Ok, sei caduto arbitro. Non do nemmeno toccato. E quindi, dicevo, le armi mi danno la possibilità di ottenere qualche mossa in più per quanto riguarda mosse speciali e mosse finali. Sempre con la speranza di non trovarmi davanti un Brock Lesnar o un Braun Strowman come il nostro primo match. Vediamo se ce la facciamo da qua direttamente. Perfetto. Vi ricordo che dobbiamo solo vincere. E lui, Elias, ha anche la mossa... la mossa del colpo basso. Quindi qui potrebbe... lui potrebbe utilizzarla tranquillamente senza il rischio di essere squalificato. Non c'è la possibilità di... Di colpire The Miz. Non c'è. Allora, ogni volta che ho fatto questa mossa non è andata mai a buon finale. Questa volta forse sì. Sì. Dai, facciamoci questa mossa finale. E vediamo se riusciamo a vincere. Ok. Andiamo a vincere? Vediamo... Ah, c'è anche il... Ci sono anche le corde. Ok. Allora, ragazzi, come vedete in basso a destra... Elias ha ottenuto il payback rosso. Cos'è il payback rosso? È appunto il colpo basso che vi dicevo a inizio match. Quindi lui, se lo andrà a utilizzare... Se lo andasse a utilizzare... Oh... Questo non l'ho vista completamente. Se fa a utilizzare questo payback... Potrebbe andare a vincere il match. Perché ovviamente è un colpo che ti... Tramortisce... E ti manda a terra direttamente. Noi non dobbiamo permetterglielo. Dobbiamo direttamente vincere. Io proverei anche con uno schieramento. Il male gliel'ho fatto. Altrimenti possiamo anche provare... A... Uscire dal ring. Ed ecco cosa mi fa. Eccola. Questa, come avete visto... Questo era il colpo basso. È perché era abbastanza lontano... Quindi non è riuscita. Avete visto? Già lui aveva provato... A farmi il colpo basso. Beh, è la prima... È il primo... È la prima mossa che mi fai. Quindi non credo che ci sia... Occhio. La mossa finale gliel'abbiamo bloccata. Quindi, lo rialziamo. Facciamoci... Facciamogli questa... Quest'altra mossa speciale. E vediamo se si fa fare la mossa finale. Sperando di poter concludere il match. Non se ne è fatta fare. Sono match... Aia. Sono match strani questi. Quando ti aspetti che... Di poter vincere... Non vinci. Assolutamente. Rientra. Ok. Allora, una sedia la mettiamo qua sotto. E qui facciamo un po' così. Ok. E qui facciamo un po' così. Riprendiamola e... Non lanciamola a terra ovviamente. Riprendiamola. Ok. E diamogli altre botte per... Ok. Per prendere un po'... Un'altra mossa speciale. Vediamo se... Questa se l'è fatta fare. Se l'è fatta fare. Ok. Ok. Mossa speciale? No. Niente mossa speciale. Mossa finale su invece. Questo si. Ok. Ok. Abbiamo schivato la sua mossa finale. Anzi, abbiamo... L'abbiamo presa in pieno la sua mossa finale. Siamo usciti dallo schienamento. E ce la stiamo vedendo male però questo. Che stiamo vedendo britta. Ok. Dove vai? Ritorna qua Non hai i contrattacchi Quindi adesso Ti posso fare tutto quello che voglio Sempre avendo la stamina Ok Siamo entrambi Morti Ok Lui ha ottenuto una mossa Un contrattacco Speriamo che non lo utilizzi proprio adesso Ok Mettiamolo un po' al centro del ring Ok E andiamo con lo schienamento Uno Due E tre Abbiamo vinto ragazzi Abbiamo conservato il titolo Vediamo adesso cosa ci diranno Credo che mi faranno vedere una vittoria normale O no Sì Una vittoria normale Sashe Banks fuori Non so Forse sta guardando Elias Ok Ok Allora Vediamo cosa succede adesso E vediamo Poco dopo Poco dopo Vediamo cosa succede poco dopo Quindi sempre nella stessa serata Sempre nella stessa puntata di Raw Da quando sei arrivato qualche settimana fa Non fai altro che comportarti Come se fossi a casa tua Hai insultato me e mia moglie Addirittura hai creato un titolo tutto tuo Per non parlare di come hai costretto Elias A combattere con una stipulazione casuale Per cui non era neanche preparato Vabbè l'audio ovviamente Non è Non è Non è singolarizzato Adesso sono stufo Vuoi un match? Lo avrai Il mio illustre E' validissimo titolo Con il tuo titolo Contro il tuo titolo immaginato Ci vedremo a Eni Lascell E ti mostrerò Cosa vuol dire Vivere nel mondo in reale Entra col Tangle Spero che mi darai questo match Mi fa piacere che voi due Finalmente vi affronterete Da uomo a uomo Hai capito bene Maryse e Elias In misturazione Saranno banditi Da Bordoring Bene Almeno è una cosa E visto che il titolo di base Sarà in pari Il match avrà luogo Con la stipulazione Che lui stesso Ha stabilito Quindi sarà un no disqualification match Vabbè purtroppo l'audio Non so perché Si è stato sforzato Vabbè comunque Abbiamo ottenuto Un match Eni Lascell No disqualification match Però Maryse Misturais E Ah e adesso Ok Ragazzi Ve lo faccio vedere Nell'episodio successivo Questo episodio Già è durato abbastanza Ci vediamo Al prossimo Ci vediamo Pag.com 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 Grazie a tutti.